Eeeeeee what's up a tutti ciurma e benvenuti da giocherine in questa nuovissima serie su Resident Evil 3 Prima di iniziare ragazzi a spiegarvi il perché e il per come io stia portando questa nuova serie Vi ricordo vediamo ragazzi di raggiungere almeno i 100 like per questo primo episodio Sforziamoci ragazzi appunto per raggiungere sempre il numero di mi piace che vi chiedo Il discorso già ve l'ho fatto non voglio starci a tornare su Voglio piuttosto ragazzi spiegarvi perché pure questa nuova serie Ovviamente il fatto che io stia iniziando questa nuova breve serie ragazzi non significa che io stia abbandonando Remodern Anche perché a quanto pare il discorso insomma che vi ho fatto e il favore che vi ho chiesto ragazzi Sembrano aver sortito il loro effetto tra virgolette perché anche il secondo episodio su Remodern Ha abbondantemente superato i like che vi ho richiesto e io vi ringrazio veramente di cuore per questo Per cui non significa che sto abbandonando Remodern È semplicissima ragazzi la motivazione Diversi di voi per quanto io abbia portato poco tempo fa appunto questo remake in live sul sito Viola Diversi di voi mi hanno detto però joke una serie comunque sul remake di Resident Evil 3 sul tuo canale Non ci starebbe affatto male anche perché diversi di voi ci tenevano appunto a vedere questa serie sul mio canale Visto e considerato che ovviamente avevo già portato il remake del 2 Serie che ragazzi è stata apprezzatissima e super sostenuta Per cui vi ringrazio anche per questo vi ringrazio comunque ragazzi sempre generalmente davvero per tutto il supporto che mi dimostrate Io anche i commenti ragazzi mi rendo conto che magari non rispondo non lascio il cuoricino Ultimamente sono veramente incasinata ma vi assicuro che cerco sempre di leggerli tutti Ho letto veramente comunque tutto ragazzi il sostegno che mi avete dimostrato anche nel vlog riguardo mi piace eccetera Io veramente ragazzi vi ringrazio di cuore per tutto non riuscirò mai a smettere di ringraziarvi abbastanza Per tutto il sostegno che mi dimostrate ogni giorno per cui grazie E quindi mi sono detta ok l'ho finito sul sito viola ma sapete che vi dico ragazzi Ti gran cazzi io ci faccio una serie anche sul canale Perché sono diversi di voi appunto ci tenevano E anche perché ragazzi vi dirò che questo remake per quanto magari sia riciclato Per quanto magari sia breve mi è piaciuto per cui ci tengo anche sinceramente a rigiocarmelo ok Poi considerate che questa esperienza ragazzi di giocare Resident Evil 3 Remake come serie È diversa ovviamente dall'esperienza che ho fatto in live Perché in live ragazzi avevo l'aiuto ovviamente di persone che ci avevano già giocato Che quindi potevano aiutarmi con i loro consigli ok Invece in questo caso io sono assolutamente da sola Per cui è come ragazzi effettivamente se davvero lo giocassi da zero Come se già non l'avessi giocato Anche perché tra l'altro ragazzi sapete com'è la mia memoria Per cui io di sicuro diverse cose del gioco già le ho totalmente dimenticate Per cui ripartiamo da zero ragazzi È come se resettassimo il tutto E godiamoci anche questa nuova serie insieme Io credo di aver parlato anche troppo Vediamo ragazzi in questa meravigliosa schermata del titolo Il nostro carissimo Nemesis Che a me sinceramente ragazzi nel suo restyling piace da matti Veramente da matti E già ve lo anticipo ragazzi Che durante le live sul sito Viola Abbiamo anche trovato un carinissimo soprannome Al nostro caro Nemesis Per cui non vi stupite se durante la serie Lo chiamerò Giacomino Grazie Robo Non ci dimentichiamo che questo è stato un tuo contributo Tra l'altro ragazzi Per assurdo Adesso Visto che già l'ho finito una volta Avrei la possibilità di comprare le armi con le munizioni infinite Ma ovviamente Siccome non è quello che vogliamo Perché noi vogliamo giocarlo effettivamente come se lo stessi giocando da zero Andiamo Ad incominciare una nuova partita direttamente E penso ragazzi che sceglierò difficoltà standard Per cui Wow Andiamo ad incominciare Ovviamente Siamo a Raccoon City ragazzi La nostra protagonista I nostri protagonisti saranno diversi da quelli che ovviamente abbiamo conosciuto nel remake del 2 L'epidemia è diffusa se così in fretta Allora il ferocito stanno dando fuoco agli edifici Le autorità si preparano ad altre rivolte Stanno verificando il senso Sono verificato il senso E' stato dichiarato lo stato di emergenza Il CDC ha isolato l'intera regione centro-occidentale degli stati uniti Un caos Totale ragazzi L'onestà e l'integrità Sono questi i reali valori che costituiscono le fondamenta dell'Umbrella Certo Umbrella ragazzi Siamo nel bel mezzo ovviamente Dell'esplosione ok Della diffusione E' il malletto pius Sicuramente migliore Qua stanno costruendo Il nostro Adorato Giacomino Voilà Ci piace Ci piace Regà Queste intro ad effetto Ci piacciono Caspiterina E' come se ci piacciono Questa serie Ragazzi serve anche comunque Eccolo là Ma non si chiama Nemesis Perché mi avete scritto il nome Nemesis La sopra Si chiama Giacomino Stavo dicendo Questa serie ragazzi Serve anche per spezzare Un pelino Insomma La monotonia Tra molte virgolette Di Remothered Anche perché Vi ripeto Comunque questa serie Sarà anche piuttosto breve Perché il gioco di per sé Non dura molto Anche se Forse giocandolo io Incapace come sono Che mi perdo Eccetera eccetera Può anche darsi che durerà un pochettino di più Però Però Avevo detto Che avrei portato appunto ragazzi Una serie per volta Ma sapete che ve li costigassino Ogni tanto Non strappare la regola Se può fa' Anche perché magari c'è qualcuno A cui Remothered Non interessa Che magari invece può trovare interessante Appunto una serie Su Regen 2 Remake Però Bando alle ciance Ragazzi Io Vi dirò per assurdo Che giocherò Questa serie Quindi giocherò Questo gioco ragazzi Col mouse E la tastiera Perché So che vi sembrerà assurdo Ma mi son trovata Veramente Da dio Ragazzi A giocare con mouse E tastiera Per lo meno Quando serve Per la mira Soprattutto Ok adesso Conosceremo La nostra Protagonessa Jill Valentine Oddio Sta cosa fa sempre senso Raga Mamma mia Ti fa venire l'ansia Però raga Senti il battito Del cuore Ti stai decomponendo Tesoro mio Un mazzo Ti fa schifo Ok Era ovviamente Un sogno Anche non Conoscendo già La storia Ragazzi Uno può Immaginare Che stia sognando Insomma In quel momento Infatti È un incubo Più che un sogno Se vogliamo Definirlo Effettivamente Un po' meglio Allora Poi dirò Addio A questa città È peccato Che la situazione Sia così drammatica Che tre giorni Non tre giorni Qua Cos'è Quante pillole Eh Però sono sul tuo comodino Tesoro Non dovresti stupirti Del fatto che ci stanno Così tante pillole Poi considerate ragazzi Che magari Alcune cose Nelle live Magari me le son perse Per cui può anche essere Che facendo un po' più attenzione Posso trovare anche cose Che mi sono persa Allora Sono passati Già due mesi Dall'incidente provocato Dalla Umbrella A caso della mia sospensione Le indagini non sono proseguite Come speravo Molto probabilmente Questo rapporto Su ciò che ho scoperto Sarà il mio ultimo lavoro Come agente stars Posso solo sperare Chi aiuta Per scoprire la verità Le persone infette Da questo virus Quindi ragazzi Il virus T Sembrano trasformarsi Letteralmente in zombie Il virus pare diffondersi Con diverse modalità Attraverso I fluidi corpori In maniera particolare Tramite la saliva Trasmessa a seguito Di un morso Attraverso il contatto Con i corvi O altri rapaci Che sono cibati Ovviamente Di una carcassa infetta Non è da escludere Diffusione attraverso Le vie aeree Vista la resistenza Del virus Noi che siamo sopravvissuti All'incidente Non mostriamo ancora Alcun sintomo Ah ecco perché C'è quest'incubo ricorrente Ragazzi Non è chiaro Se ciò sia dovuto A un lungo periodo L'incubazione O perché ci siamo rivelati Immuni All'infezione Dobbiamo rimanere allerta Anche dopo la conclusione Delle indagini Personalmente A parte una leggera insonnia Credo di stare bene Ma non dovrei essere Troppo ottimista C'è sempre la possibilità Che l'incubazione Duri più a lungo Di quanto precedentemente Potenzato Quindi per questo C'è questo continuo incubo Perché ovviamente Vive nel terrore Che sia stata contagiata Comunque dal virus L'Umbrella Quindi azienda farmaceutica Lidere nel settore Diffusione del virus T Dei laboratori Su Ponti Alclei Causa dell'incidente Alla villa Ovviamente si parla Della villa ragazzi Penso del primo Resident Evil Collusioni con i vertici Della città di Raccoon City Quindi in gentisome di denaro Dorata il sindaco Warren Controlla influenza Su tutta la città Quindi diciamo Che praticamente Stacaccio d'Umbrella Ragazzi Si è comprata a mezzo mondo Pur di fare il cacchio Che voleva Fondamentalmente Penso che significhi questo Allora Sono prigioniera Nella mia stessa casa Vedo spesso degli uomini Nel dificio Dall'altra parte La strada Osservarmi Dalle loro finestre Li avranno mandati Airon So sono dell'Umbrella Non so che questo Faccia molto differenza In realtà So cosa stanno cercando di fare Vogliono sfiancarmi Mentalmente Tormentarmi Ci stanno riuscendo Ho perso l'appetito Anche il sonno Sento che sto impazzendo Mi sento come un morto Che cammina Letteralmente Ma non gliela darò vinta Devo andarmene a questa città E fare in modo che la gente Sappia Cosa sta succedendo Temo che manderanno qualcuno Per farmi tenere la bocca chiusa Quindi rischia anche Da questo punto di vista Comunque Che qualcuno la ammazzi Ragazzi Se dovessi venire a sapere Che mi hanno uccisa O peggio Sarei tu A dover riprendere l'indagine Dove le ho interrotte Ti allegro i documenti In mio possesso Troverai tutte le informazioni necessarie Sempre che questa busta Arrivi intatta Andrò via di notte Tra cinque giorni Augurami buona fortuna Ok ovviamente Si riferisce a qualcuno Che conosce A qualcuno di cui si fida Per cui Allora aspettate Vediamo se mi sono persa No di qua Mi sa che non mi sono persa Nient'altro Ah qua c'è un foglietto Messaggio di un collega E fenomeno Come te la passi Non riesco ancora a credere Che Irons ti abbia sospesa Dovrebbe piuttosto Darti una medaglia Per essere uscita Viva da quell'inferno A luglio Comunque immaginavo Che avresti continuato A piccare il naso È successo tutto così in fretta Vorrei continuare a tenere Un basso profilo Per la mia sicurezza Spero tu non ce l'abbia Con me per questo Gli stars Erano l'orgoglio Del nostro corpo Quando il capo ci ha sciolto E ho davvero pensato Che sarei rimasto Disoccupato Giravoce che stai Per lasciare racconciti Immagino che tu Non abbia preso bene Questa cosa Era la sospensione Era il servizio Promettimi solo che Sarei attenta L'umbrella Non se ne sarà Di certo Con le mani in mano Mentre cerchi di combattere L'organizzazione Ovviamente Quindi guardati le spalle Quindi Brad Vickers Quindi è un altro membro Ragazzi Ovviamente della stars Goriti la maxi pizza Col salame Quindi le ha mandato Questo messaggio Con il fattorino Della pizza Anche se effettivamente Jill poverina Ragazzi Sembrerebbe aver perso Il suo appetito Ah possiamo aprire Addirittura il frigo Questo vedete Regà per esempio Milaim non l'ho fatto Ovviamente non c'è nient'altro Comunque Jill Tu dovresti imparare A non tenere I rubinetti aperti Figlia mia Che diamine Ok ovviamente Il panico Che si ripeta Adesso quello Che le è successo In sogno Ma quant'è figa È bella Lei dai ragazzi No tesoro Ero un incubo Ero un incubo E cerca di stare tranquilla Anche se ovviamente Regà Vive col terrore Di aver contratto Questo maledettissimo Virus T Ovviamente Anche se Comunque conviverci Non è facile Comunque Abbiamo finalmente Abbandonato La prima persona Sta squillando Il telefono Aspettate Un secondo Datemi un attimo Voglio vedere Se me sono scordata Qualcosa Sembrerebbe Di no Arrivo Arrivo Si dire Arrivo al telefono Come se chi È dall'altra parte Potesse sentirci Che era What the fuck Umbrondo 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 Pronto Sì Stai bene Oh Brad Cosa c'è Ciao Brad Devi andartene da lì Cosa stai dicendo Non c'è molto tempo Vattene via da lì Ora subito Ok Fammi prendere Ah Dai Tutto È arrivato Giacomino Ciao Giacomino T'hanno mummificato Oh C'è Raga ovviamente Io non mi ricordo Nei dettagli tutti Tutto quanto Quindi Comunque Sempre come se fosse Una sorpresa Quello che Abbiamo potuto constatare Ragazzi È che Jill è peggio Di Wonder Woman Non l'ammazza nulla Oddio scappa Raga comunque Mette sempre In quietudine Ha sfondato un muro Vuoi che non sfondi Una cazzo di porta Che cazzo era Quello Eh Noi lo sappiamo Purtroppo Cos'era Oh Via Vuoi che lo fermi Una libreria di legno Questo sfondamuri Di cemento Cazzo Ok raga Stiamo calmi Oh 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 Stiamo buoni Stiamo buoni 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 Raga L'ansia la mette lo stesso A me quando qualcosa mi segue Raga a me viene l'ansia automaticamente Io me ne vo Me ne vado C'è tutta la vita Non voglio restare qua Agile Salve Ah Oddio Oddio Jill Vatter Cheat Veramente schifoso Che cacchio aspetti Aspetti che Che Ti faccio qualcosa Con quel tentacolo Ah Orribile Mazza che botta Raga Ok Io continuo a fuggire Cioè Non c'è una missione di peccato Non staremo di certo Uuu 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 Ma quanto Poi Eh Se è bello Tesoro di mamma Però te devi dare una calmata Oddio 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 Che c'è fa Oddio Oddio Arriva Oggi corri Per l'amore del cielo E zoppa E zoppa Stars Esatto Giacomo Giacomino Aia Oh merda Eh Giacomo Hai sfondato tutto tu Eh Fio mio Fio mio Hai fatto tutto da solo Poi non voglio sentire storie Eh Se l'hai data a gambe Poi hai fatto crullare tutto te Fio mio Quindi Abbiamo potuto constatare Che Jill Ragazzi È Wonder Woman Lo vedrete Ciao Brad Eh Oddio Dire che sto bene Va bene Ottimo Bello essere ricercati Da Giacomino Ok Ok Aspettami Aspettami Brad Siamo inseguiti quindi ragazzi Da quest'essere gigantesco Che a quanto pare Cerca soltanto i membri Della Stars Come hai fatto Confezione A propagarsi così Eh Fred Stai a scatto Oddio ecco Eh Fred Però ce l'hai scritto pure Sul Sul gilet Stars Scrivitolo Confruttato Tato 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 In fronte No Sono Della Stars Vabbè che Giacomino Non ha bisogno Di indicazioni Per capire Chi deve inseguire Però Via Utilissimo Utilissimo Oddio Eccolo là L'ha preso Regà Eh ma L'ha morso Ormai non c'è niente Da fare Non pensarci adesso Adesso È stato infettato Figlia mia No Ti prego Siamo ancora una squadra Certo Allora non mandare Tutto a puttane come me Addio Fred È stato bello Fred Perdona Ti vogliamo bene Fred Che c'hai Crampi allo stomaco Eh Giustamente Dopo aver visto Giacomino Si possono provare Certi Tipi di emozioni Scusami È morto Che se ne fa Oddio Oh oh Ok Adesso ragazzi Testeremo La mira di giocherina Col mouse Che ovviamente Potete ben vedere È molto più Precisa Anche se In ogni caso Vi assicuro Ah ho finito i colpi Quindi direi di andarcene Gil Dov'è preso Tutta la L'attrezzatura Che si è messa addosso Ragazzi Un attimo fa Non ce l'aveva Non l'ha presa Ricerto da quel morto L'è comparsa Così Bibidi Bobidi Boo È arrivata La pata Smemorina È arrivata Che ha esaurito Il desiderio Cioè A Cenerentola Le ha creato Scarpine di cristallo E un vestito Da Da battona A lei invece Fa crescere Attrezzature Signore Sta bene Per Per emozioni Armi Ok Non ha sentito Un elicapero Sta venendo a salvare Dov'è Salvarci Via Non mi muovo da qui Il parcheggio Attifici Possiamo andarci insieme L'unico posto Sicuro È qui dentro Ok signore Ok Buon uomo Come vuole lei Come vuole lei Facci Facci A noi Interessa poco Niente Allora Ovviamente ragazzi Una cosa Bisogna fare bene Appunto Resident Evil È Guardarsi bene intorno Esplorare bene Cercare di raccogliere Tutto Quello che si può raccogliere Ovviamente Allora Vai sul tetto Del parcheggio E i cani Non ci sono mai Piaciuti In questi giochi qua Sono proprio Una bella spina Nel sedere Bel Primissimo piano Su queste chiappe Sode E andiamo Ah Ah schifo Ah schifo Ho capito che c'è delle belle chiappe Però mantenetevi Insomma Non vorrei provare davvero A mordergliele Ciao zio Quanto si paga Allora Ok va bene Ci ripasso più tardi Lascio la macchina Parcheggiata qua Allora Perfetto Possiamo passare Tranquillamente Così ragazzi Perfetto Da un'arma All'altra E La mappa Non me la fanno ancora aprire A quanto pare Vabbè ma qua Sembrerebbe non esserci Ah Secola Eserci Assolutamente Niente Per cui Jill Se non vuoi farti Mordere Come potete vedere Ragazzi La mia mira È capace di fare schifo Anche col mouse Tanto per cambiare Io vado ragazzi Eh scusate Se Se non mi unisco Al vostro party Ma Ho una certa fretta Muoviti Muoviti Chi è Battere Madonna Santa Questa ascensore È capace di trasportare Solo una persona per volta Non lo sapevate Oh che cavolo Oh Eh È un po' di pace Su via I crampetti allo stomaco Eh Vede Giacomino T'ha scombussolata dentro Via mia Allo so Mi rendo perfettamente conto Di ciò Sono emozioni Che si provano Solo una volta Nella vita Salta su Certo Guarda È certo Non ve lo farei ripetere Due volte Sinceramente Io corro Verso l'elicottero Peccato che Era prevedibile Comunque Sarebbe stato Troppo bello Per essere vero Mannaggia La bubba Mannaggia Giacomo Giacomino Vuoi provare te Una certa ebbrezza Oddio Accenditi Oddio Succede sempre così Ragazzi Non si accende mai La macchina Non si accende mai La macchina Sta arrivando Muoviti Giacomino Prova questo Aiuto Aiuto E' questa E' questa scuola E' questa scuola E' molla Continuare Accelerare Madonna che volo Giacomino 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 è l'unico Capace di farti provare Queste sensazioni Meravigliose Ennesima conferma Ragazzi Che Jill E' meglio di Wonder Woman Non si è fatta Un graffio In questo Volo Acrobatico Con la macchina Eccolo là Giacomino In tutto Il suo Splendore Ma quanto Puoi essere Bello Avvolto Delle piambe Tesoro Bam Minchia 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 Con quel tentacolo Ci puoi far di tutto Ci affetti anche Le zucchine Arriva E' un bel imbusto Carlitos Montresor E Giacomino Ci è rimasto Un po' male Però noi Sti cazzi Pondamentalmente No Se l'è cercata Ci voleva Fai culastrisce Se l'è cercata Certo Qui partiamo I sopravvissuti Qui dove? Stiamo usando Un treno Della metro Come rifugio E' sicuro Se lo dici tu Sto bene Ehi Non mordo Sai Capisco E' carlitos Voleva allungare La manita Ma Il coglione Che l'ha chiusa Jill Mi spiace Ci dobbiamo fare Il gioco Jill Ragazzi Fa la tosta Fa la dura Non so Ma hai visto Nulla di simile Ma non è Un zombie Farà di tutto Per raggiungere Il suo obiettivo Sono i tipi ostinati Per niente No Quanto pare Proprio no Carlito Sei buone mani Sono della divisione Contro misure Minacce biologiche Dell'UbcS Ah sei dell'ombrella Figlio mio Cazzo hai detto Siete morta Causa di tutto questo Ai 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 Sei libera Di non fidarti Ma io devo andare A rifugio Vieni con me Te sto a segui Te sto a segui Dove vuoi che vada A sto punto delle cose Sì ti seguo tesoro Sono giusto dietro di te Attaccata a tuo bel sedere E corre Da questa parte Da questa parte Poi se ne va Corre Non mi aspetta Che galantuomo Proprio Eccoci qua Oh Buonasera Permesso Capitano Alla signorina serve aiuto Chi l'ha detto Che mi serve aiuto Salve signore Scusi l'intrusione Ma Non hai pensato Di chiedere Alla signorina Come si chiami Sai che è un membro D'elite Della Star Sezione speciale Della polizia Di Raccoon City Si chiama Qualcosa Come Valentine Sono Sono proprio io Piacere di conoscerti Jill Jill Sono Mikhail Victor Comandante del Platone Degli UBCS Siamo stati inviati qui Per soccorrere Il civile È ferito Qual è la situazione Dramatica Una merda Togliata fuori Disastro Molte centinaia Di migliaia Di civili Finiranno Per morire Mi corrego Le peggiori Condizioni ambientali Ok Non mi serve altro Le peggiori Condizioni ambientali Ha subito ingenti perdite Faccio il possibile Per garantirne La sopravvivenza Ringrazio il tuo datore Di lavoro Per questo Sì Però Stiamo facendo Tutto il possibile Se riuscissimo A far partire Questo treno Potremmo fare Evacuare I sopravvissuti Massa Sono tanti Ma ci serve aiuto Non possiamo Farci La so La so Me la devo sbrigare Sempre io La rogna Anzi Grattarmela Io La rogna Me la gratto Tutta io Esatto Non ho bisogno Deve essere i sopiti Ringraziamenti Fa la dura Fa la tosta Devi equipaggiare Sì Sali al piano di sopra Troverai dei riformi Ok Te gioro Va benissimo Te gioro Allora Quindi vediamo Allora Per combinare ragazzi Anche in questo caso Possiamo combinare Le polveri da sparo Per creare delle munizioni Ovviamente Due polveri piccole Fanno proiettili per pistola Una polvere piccola E una grande Fanno proiettili per fucile Due polveri grandi Fanno proiettili per la magnum Per cui A posto Lo terremo a mente Cercheremo di tenerlo a mente Allora Qua abbiamo il nostro inventario Qua abbiamo la nostra mappa Ok Abbiamo anche la nostra mappa Per cui Ragazzi Ovviamente Cioè È bello poterlo rigiocare Anche così Perché a parte che Quello che io ho sempre sentito dire Dagli amanti di Resident Evil Che ogni volta che si rigioca Un Resident Evil È come se veramente Lo si rigiocasse Per la prima volta Quindi Ti fanno provare Sempre delle emozioni Sempre le stesse emozioni E penso di poter Essere d'accordo Con questa cosa qua Su questa cosa qua E Anche perché ragazzi Ovviamente Giocandolo in live Magari Non ci si concentra poi Proprio totalmente Sul gioco Quindi giocarlo da soli Vuol dire Immergersi ancora di più Nella storia E nei vari momenti Quindi Io vi dirò sinceramente Che sono contenta Comunque di Di portarlo In serie Sul canale Allora Qua ovviamente ragazzi Parla del fatto Che Ci fossero episodi Di cannibalismo Anomali Ovviamente in città Io non lo leggo tutto Ve lo lascio un attimino Così Se dovesse volerlo Leggere Tutto Per cui C'erano stati I primi episodi Ovviamente ragazzi Di persone Che aggredivano Altre persone Che se le mangiavano Fondamentalmente Questo diceva L'articolo di giornale Carlo Sì No No Ci sono quasi Qual è il piano? Il vecchio mi ha mandato A sistemare i binari Vuoi riattivare L'infrastruttura Della metro? Riattivare? Devi prima ripristinare La corrente Ti guiderò fino alla Sottostazione Quando sarai in strada Ricevuto Vado subito Ok Sottostazione Allora Quindi dobbiamo ripristinare Ragazzi la corrente Questo È il primo Obiettivo Allora Polvere da sparo Piantina Ovviamente mi è stato Consigliato comunque Di combinarle sempre Le piantine Possibilmente Qua ci servirà Il grimaldello Ragazzi Che per ora Non abbiamo Ancora Cominiamo pure La pianta rossa Ovviamente Combiniamole Sì 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 Già questo Già lo sappiamo Per fortuna Combiniamone Già un paio Io direi di Combinare anche Questi per ora Tanto Il cucilazzo Per ora Ragazzi Non lo troviamo Potremo trovarlo Fra un po' Se non mi ricordo male Siamo in una stanza Di salvataggio Allora Per Ottenere Degli oggetti Ragazzi Contenuti Qua dentro Dovremmo trovare Tre gemme Di cui ovviamente Minimamente Non mi ricordo La posizione Per cui allora Miscelare le piante Per la massima efficacia Ragazzi Pianta verde E pianta rossa Per cui questo Chiarissimo E gli spray Ovviamente Non si possono creare Grazie Non eravamo a conoscenza Ovviamente Lo sapevamo Grazie per questa Meravigliosa notizia Gli spray Si possono solo Ed unicamente Trovare In giro Per cui allora Qua sembrerebbe Non esserci più niente A questo punto Delle cose Christian sicuramente Mi direbbe Ma no Potevi completare L'obiettivo Di non aprire La cassa Per tutto il gioco E io Criti guarderò così E già capirai Quello che sto pensando Per cui Come potete vedere Ragazzi Questo è il salvataggio Della partita Che ho fatto Durante le live E ho salvato La bellezza Di 79 volte Però vabbè So dettagli So dettagli Allora qua ci dovremo Stare ovviamente A tornare Lì ci sarà quindi Una cassetta Da aprire Cerchiamo di non Dimenticarcelo Allora Eccoci qua Benissimo Inizia il delirio Tu entra Amico mio Vai sicuro Vai tranquillo Eccolo là Allora Ovviamente Ragazzi In questo Resident Evil L'hanno introdotto La schivata A differenza Del remake Del 2 Dove ovviamente Non c'era E questa cosa Può essere utile Ma Ecco Mori Mori E' morto Perfetto Ci può essere utile Ma fino ad un certo punto Bisogna comunque Saperla usare E usarla Al momento Opportuno Ovviamente Per cui Allora La prima cosa Che farò E' guardarmi Bene Intorno E vedere Se posso Trovare Qualcosa Di utile Qui Perché io Non mi ricordo Umanamente Ragazzi Dove sono Tutti gli oggetti Eccetera Vi ripeto Come davvero Ragazzi Se lo stessi Giocando Per la prima Volta Nonostante Tutto Per cui Mi sa che Non ci resta Che addentrarci Di qua Ragazzi In questo Vicolo Scusate Ragazzi Io sto Stare arrivando Se magari Potete Evitare Di fare Gli animali Grazie Ve ne sarei Veramente 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 Grata Come l'ho detto Ovviamente Ragazzi Quando si restringe Il mirino Vabbè Molti di voi Lo sapranno Meglio di me Serve per far Si che ci sia Più probabilità Di colpo Critico Ok Questo Siamo riusciti Ad ammazzarlo Non credo Che farò In tempo Ad ammazzare Questo qua Ok E' morto Ah no Non è morto Non è morto Adesso è morto Ovviamente Ragazzi Mi dovete Perdonare Se perdo Tempo Tra molte virgolette A fare Questa cosa Qua del coltello Ma è per evitare Comunque Che questi maledetti Poi Si rialzino Per cui Allora Siamo riusciti Ad arrivare Dall'altra parte E adesso Comincia Un po' Il casino Ragazzi Allora Qua Ovviamente C'è una porta Esatto Che ricordavo bene E chiusa Con l'ucchetto Per cui ci servirà Il grimaddello Per aprire qua E E E E E Questa è chiusa Con la catena Tra un po' Dovremmo riuscire a trovare Le Le pinze Ragazzi Voi state buoni là Ragazzi Per favore Fate i travi Non mi fate Arrabbiare In anticipo Accipicchia Subbia Anche se Tra un po' Ragazzi È chiarissimo Che ovviamente Riusciranno a sfondare Quelle reti Vedi dei grossi Vedi dei grossi tralicci È la sottostazione Per arrivarci Devi passare dal vicolo Alla tua destra Che è in piamme Esatto Forse Un tipo come te È abituato alle situazioni scontate No Ecco Guarda Con Jill Il sarcasmo È proprio Sprecato Io T'avviso Carlossino Anche se Devo spegnerlo Eh Devo spegnerlo Sì Allora Dobbiamo trovare Ragazzi Un'altra via Ecco qua Ovviamente Ce la apriranno Loro Mi pare ovvio Come avevamo Già immaginato Ragazzi Comunque A prescindere Le avrebbero sfondate Per cui Ci Serviremo Ragazzi Di questo Avvicinatevi Avvicinatevi Un po' di più Un po' a sinistra Ok Penso Siano già morti Io comunque Nel dubbio Guarda Ci infierisco Un po' Però no Dovrebbero essere morti Non credo Che si risveglieranno Ragazzi Sono letteralmente Carbonizzati Letteralmente carbonizzati Allora Per cui Ci hanno aperto Ragazzi Una strada Di qua Per cui Eh Non ci resta Che andare a cercare Qualcosa Di utile Di qua Ovviamente Ah qui c'è Lì c'è pure L'affare Ok Il generatore Di elettricità Ecco Se ti muovi Figlia mia Quando cerco Di ammazzarti Ok Io intanto Una colpita La testa Te la do Perché di sicuro Si rialzerà Ok Di regola è morta Attenzione Che ne arriva un altro Ah non è morta È morta Proprio sto paio De palle Regà Proprio sto Gran paio De palle Pure te Sta fermo Oh si è incacchiato Si è incacchiato Sta fermo Sta giù Mannaggia Sta giù Madonna Santa Oh regà Quante volte Ve lo devo ripetere State giù Eh ma avete rotto Oh Allora Come siamo messi a colpi A proposito Ok Non siamo messi Non siamo messi Molto bene Ovviamente Per cui Allora Approfittiamo Proviamo a colpirlo Adesso che è a terra Continua Continua A dimenarsi Continua Ma continua A dimenarsi È morto Sei morto Cazzo Ok Adesso si Adesso sembrerebbe di si Il tizio laggiù Ovviamente Non lo è Per cui Allora Aspettate un attimo Fatemi vedere Prima di fare Di andare da qualsiasi parte Se qua intorno C'è qualcosa di inutile Oh Ah Oddio Da dove è riuscito St'altro stronzo Da dove è riuscito Questo Maledizione Non ne posso fare niente Con questo Direttamente No Senza sprecare colpi Intanto che Che è lì Che Se si dimena Divertentissimo Ragazzi Vero Divertentissimo Prenderlo a coltellate E aspettare Che vada giù Anche se non va giù Ok Almeno mi sono risparmiata Qualche colpo Questo qua si rialzerà Io questo l'avevo colpito Ragazzi Sembra avere La testa spappolata Sarebbe pure ora Insomma No Allora Qua però qualcosa Ragazzi Eh Che cazzo Ragazzi Vi rendete conto di sì Di quante volte l'ho colpito Vero Oh vai giù E stai giù Dico io No Ma non potevano inserire tipo Una mossa Per spappolargli la testa Una volta per tutte Tipo dandogli un calcio Qualcosa Allora qua abbiamo preso tutto Perfetto Abbiamo due polveri da sparo Tra l'altro Io le combinerei già Per avere da parte Questi altri colpi Per cui Allora Entriamo qua ragazzi Nei donus Cos'è sta musica Ragazzi Ragazzi Dovete dare una carnata Però Il jukebox Non mi sembra proprio Il momento adatto Eh Si rialzeranno mai questi Io manco mi ricordo Ragazzi Sinceramente Allora Non abbiamo preso tutto Però qua dentro Attenzione E ovviamente non diventerà blu Fin quando non apriremo Questo benedetto armadietto Ah Qua c'è un'altra stanza Di salvataggio Perfetto Allora Piantina Qui c'è il primo portagioia Ragazzi Che adesso analizzeremo Ovviamente Perché contiene Ecco qua Appunto la prima gemmetta Con le gemme Di cui vi parlavo Un attimo fa Per cui Qua dentro ho preso tutto Smollerei questo Questo e questo Ok Ok Intanto salvo Ragazzi Sapete benissimo Che io salvo sempre Ecco perché Nella live ragazzi Nelle live ho salvo Arrivato a salvare 80 volte Perché Non mi ritengo mai Abbastanza prudente Sì ragazzi Mi fareste un favore Se vi riunite Tutti lì al centro Guarda lì al centro Ok Non sono sicura Che gli abbia colpiti tutti Io mi auguro Ovviamente di sì Perfetto Allora Guardiamo un attimo Ragazzi Prima qua dietro Ok Proiettili per pistola Ottimo Che ci fanno sempre Stra Comodo Oserei dire Allora Qua sopra Questa camera È chiusa No Questa camera Non è chiusa Ok Ho bisogno Un secondinino Proprio ragazzi Nano Per orientarmi Qua dietro C'era qualcuno Sì Questa si rialza Di sicuro E la madonna Scusi signore Non era proprio Mia intenzione Venire a disturbare Ma Lei mi sbuca così Mi sbuca così Con quella prepotenza Con quella prepotenza I colpi che ho risparmiato prima Ragazzi Li sto usando tutti adesso Quindi mi fai il favore Di morire Adesso Già Ma di morire male Eppure te Di stare giù Ok Questa non si dovrebbe rialzare Allora Prendiamo Cos'è Polvere da sparo Che fa sempre comodo Qua dentro Non c'è niente Bim 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 Ok Qua abbiamo preso tutto Ragazzi Quello che ci serviva Allora Qua nel vicolo Non si può ancora andare Appunto Perché Ci serve La pinza Mega galattica Super Mega stratosferica Per poter rompere Le catene E di qua Allora Di qua possiamo Salire Ok Di qua Il negozio è aperto Ma questo stronzo Si rialzerà In men che non si dica Di sicuro Di sicuro Vero signore Ok Muori Grazie Muori 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 Non muore Ma dopo che l'ho colpito Così tanto Regà No Cioè Dico io Cazzo Ma lo fate morire L'ho colpito alla testa Con un coltello Cosa che di solito Nelle serie tv Sulla zombie Si vede che basta Un colpo Per ammazzarli Eh basta che gli sfragni Il cervello No Eh basta quello Qua invece no Resentivo il no Tu gli piazzi Un coltello in fronte Non va Ah c'era quello Cazzo Vedete raga Quando uno Non sta molto attento Ho sprecato diversi colpi Quando avrei potuto Utilizzarne solo uno Aiaiai Giocherina Non ci siamo Da dove esci Da dove esci Sta giù Minchia schifosa Schifosa lurida Molla il mio polpaccio È mio Grazie Non lo avrai Accipicchia E dai Un'altra volta Oddio Raga se ci rimango secca Mi cacchio Come una iena Stai giù Madonna Santa Te faccio sta giù Eh Io Io A forza Scazzo Eccolo là di nuovo No raga No 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 Non mi dico No non mi dico Sono morto Oddio Raga ma vi rendete conto Di quanto posso essere Stupida Sì vi rendete conto Che cazzo Di quanto posso essere Stupida Raga Quasi ci rimango secca Quasi ci rimango secca Per fare l'imbecille Comunque ho preso tutto Qua fuori Almeno così sembrerebbe Qua fuori ho preso tutto Il punto che so Per morire Quindi comunque A prescindere Devo usare questo ragazzi Intanto No non Direi di non usarle Già tutte le polveri Da asparo Perché veramente Non si può mai sapere Quanto ci serviranno Più avanti Allora Siamo in una farmacia Signore e signori E appunto Così vedete Già per esempio Possiamo creare Colpi per fucile Che comunque Fra non molto Dovremmo poter Prendere Allora Ho un brutto ricordo Di questo posto Esatto Forse Questo è il motivo Ma questo qua Forse non si dovrebbe Rialzare Sembrerebbe di no Ho pure sprecato un colpo Allora qua ragazzi C'è una combinazione 9 a sinistra 3 a destra 7 a sinistra Siccome io Ho promolto Probabilmente Me la scorderei Io gli faccio Una fotarella Ecco qua Allora Ho preso tutto Ragazzi Anche nella farmacia Perfetto Benissimo Allora Qua fuori pure Ho preso tutto E E E E Per cui Non ci resterà Poi ragazzi Che salire Lì le scale E vedere Che cosa troviamo Per cui Allora A questo punto Delle cose Ragazzi Io direi Che visto che abbiamo Qua una stanza Di salvataggio Una safe room Allora Per ora Abbandoniamo Un attimo Queste cose Qua dentro Potrei combinare Pure i due verdi Però per ora Lasciamo così Ovviamente Salvo la partita Riprenderemo Da qui La prossima volta Ragazzi Ovviamente Ovviamente Fatemi sapere Che cosa Ne pensate Di questa serie Che cosa Ne pensate Anche del gioco Se lo avete giocato Se lo state guardando Da me Per la prima volta Insomma Tutti i vostri pareri Sono sempre ben accetti Questo video termina qui Grazie a tutti Un bacione E obdash A tutti ragazzi Da giocherina Ciao